Encanto, il nuovo film Disney Pixar che potete trovare al cinema in questi giorni. Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita, con sommo piacere sono a parlare di Encanto, l'ultimo film Disney Pixar che è uscito finalmente al cinema dopo il fantastico Luca che è uscito solo su Disney+, solo in streaming, qua invece era già stato annunciato che sarebbe uscito al cinema, e Encanto continua un po' a parlare così come Luca è stato focalizzato sull'Italia e Encanto invece si vuole concentrare sulla Colombia, sulle tradizioni colombiane ed è una scoperta di un mondo magico già di per sé, per noi che non conosciamo questo mondo reso ancora più magico appunto dalla magia della Disney. Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega o un mi piace per carità, di condividere il video con tutte le persone che hanno un talento e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film e scrivetemi anche se voi aveste quel tipo di magia quale talento potreste sviluppare. La trama in breve parla di una ragazza, Mirabelle Madrigal, figlia e nipote di una famiglia che da tre generazioni ormai si è stabilita in questo paesello circondato dalle montagne che si chiama appunto Encanto e questa famiglia è benedetta da una magia, una magia nata dalla disperazione, da un fatto accaduto brutto, cioè dalla perdita del marito di questa matriarca per salvare la propria famiglia. Questa magia simboleggiata da una candela ha portato ai figli e ai figli dei figli di questa matriarca dei talenti, chiamiamoli magari dei superpoteri in un certo senso. Ecco, quello che nel trailer magari non si capiva molto è che non è che tutta la cittadina ha questi talenti tranne Mirabelle, ma è la famiglia Madrigal. La famiglia Madrigal è piena di talenti, tranne appunto Mirabelle. E va da sé che Mirabelle soffre questa condizione, la soffre perché appunto si sente inferiore alla propria famiglia, si sente in un certo senso di aver deluso la propria nonna, i propri genitori, la propria famiglia in generale. In questo film c'è un forte senso di famiglia, un forte senso di rendere orgogliosa la propria famiglia con il proprio talento, ma come vedremo poi nella pellicola, questo senso di portare onore rispetto alla propria famiglia a volte può essere anche un'arma a doppio taglio. Tra i vari personaggi vediamo i tre figli principali, tra cui la mamma di Mirabelle che ha il potere di guarire le persone cucinando per loro, poi abbiamo la zia di Mirabelle che è una sorta di tempesta degli X-Men, il suo umore cambia il tempo atmosferico e poi c'è un terzo zio che non viene nominato, che si chiama Bruno, neanche a farlo apposta come il silenzio Bruno di Luca, che ha uno strano potere di vedere il futuro e per qualche ragione, forse proprio per questo è stato allontanato o si è allontanato dalla famiglia. Queste due persone, queste due zie invece, questa mamma e questa zia hanno generato dei figli, abbiamo il ragazzino che si trasforma come mistica degli X-Men in qualunque persona voglia, abbiamo la cugina di Mirabelle ovvero la sorella del ragazzino Shapeshifter che invece ha un udito incredibile, riesce a sentire uno spillo in tutta la valle quando cade e quindi sa, conosce i segreti di tutti ed è per questo che è anche un po' un'impicciona. Poi abbiamo invece le due sorelle di Mirabelle che sono Luisa che è quella forzuta, come abbiamo visto anche nel trailer, quella che riesce a sollevare un ponte, che mi piace, ecco che abbiano anche rappresentato finalmente una ragazza della Disney, non è una principessa perché non ci sono principessi in questo film ma non la solita perfettina, ma una ragazza muscolosa proprio per avere anche una rappresentazione di questa categoria di persone, sia di ragazze ma di persone in generale. È bello che finalmente in un film ci siano anche delle ragazze, delle protagoniste femminili che abbiano un fisico diverso dalla classica principessa Disney, ma c'è anche la classica principessa Disney che è Isabelle, la sorella tutta perfetta di Mirabelle. Questo genera non poca invidia, non poca gelosia da parte di Mirabelle. Ma perché proprio verso Isabelle e non verso altri membri della famiglia? Proprio perché Isabelle rappresenta questa classica principessa Disney che ha il potere di dominare i fiori, di farli sbocciare, scende con delle liane, regala fiori a tutti. Sembra super perfetta, sembra la classica principessa delle fiabe e questo genera in Mirabelle una certa gelosia, una certa invidia. Questo oltre al fatto che lei non possiede un talento particolare la fa sentire sempre di più inadeguata agli occhi su tutti della sua nonna. Mi piace che finalmente in un film del genere si parli di un tema, di due temi in realtà, intrecciati a doppio filo. Oltre al tema principale ovviamente della famiglia che è quello più palese, si parla proprio di questa invidia generata dalle persone che si sentono inferiori, si sentono inadeguate. È spesso narrata il protagonista un po' sfigato, il protagonista che non è un eroe ma poi viene rivalutato alla fine. Però qua finalmente si parla anche di come questa invidia dell'eroe che è sfigato verso invece gli eroi, quelli visti da tutti come degli eroi, quindi da quelli visti un po' come perfettini, qua incarnati nella figura di Isabel, viene narrato sia il punto di vista di Mirabella, appunto che la considera perfetta, ma anche il punto di Isabel che invece, esattamente come Luisa, si sente incastrata nel suo ruolo, in questo caso il ruolo di perfettina per quanto riguarda Isabel o nel ruolo della ragazza superforte nel caso di Luisa. Si sentono incastrate nel loro ruolo che la società in un certo senso gli ha imposto, gli ha affidato, gli ha affibbiato. Si sentono incastrate nel loro talento, un talento che magari all'inizio gli ha dato gioie ma che ora gli fa sentir loro tutto il peso della pressione delle persone attorno a loro che si aspettano sempre di più, si aspettano sempre qualcosa da loro. Mentre invece questa pressione Mirabelle non capisce cosa sia proprio perché non avendo un talento nessuno si aspetta niente da Mirabelle. Quindi ci sono sempre due facce di una medaglia, non è solo Mirabelle a essere quella sfigata e le altre hanno tutte le fortune, ma anche le altre hanno il loro piccolo inferno personale ed è un messaggio fantastico da mandare ai bambini, alle persone in generale perché noi guardiamo sempre il giardino del vicino, guardiamo sempre che il giardino del vicino è più verde, ci lamentiamo di noi stessi, ma non sappiamo, non sappiamo mai quello che abbiamo davanti, la persona che abbiamo davanti cosa sta passando in questo momento ed è bene sempre ricordarcelo quando noi abbiamo le palle girate, vorremmo rispondere male magari a uno sconosciuto, a una persona che si approccia a noi. È giusto come messaggio da dare ai più piccoli ma anche agli adulti che magari dovrebbero impararlo un po' di più. So che sembra una frase fatta, una frase da bacio perugina e non voglio fare la morale a nessuno, però io mi sono reso conto, io lavorando a contatto con il pubblico, mi sono reso conto che da quando mi sono messo in testa questa frase, questo mantra, lavoro molto meglio e risulto molto più gentile agli occhi anche delle persone con cui mi interfaccio. La chiave di volta di questo rapporto di gelosia e di invidia è il fatto che comunque Mirabel e Isabella non si parlavano perché vivevano nel proprio mondo fatto di invidie, fatto di essere visti in un certo modo per quanto riguarda Isabella. Quando cade tutto ciò? Quando finalmente si confrontano, quando finalmente trovano un punto in comune e cadono tutte le barriere, crollano, metafora anche, magari non so se è evoluta ma è la metafora un po' della casa che si sta sgretolando, trovano un punto d'incontro e crollano le barriere e si sentono entrambe più libere e crollano anche queste invidie. È con il dialogo, è rappresentato dall'abbraccio in questo caso, ma è con il dialogo che cadono questi preconcetti. Come lo stesso Bruno dice in una frase a un certo punto, il talento imposto non è per forza quello che uno si sente. Bruno per esempio ha sempre detto che il suo talento era, il suo vero talento era quello della recitazione, non quello di prevedere il futuro. Ovviamente come ho detto prima il tema più ampio, più palese è quello della famiglia. Si parla molto di famiglia e si parla molto di portare orgoglio alla propria famiglia, ma è anche un'accezione negativa perché è un'accezione molto americana, io credevo solo statunitense ma può darsi che sia anche colombiana. Io mi identifico con il mio talento, io sono finché produco, io sono finché porto qualcosa alla mia comunità, altrimenti io non sono, altrimenti io non valgo. Questo è il lato brutto del talento che rappresentano in questo caso. Il talento di Luisa è essere forte, quindi lei deve essere utile alla sua comunità di incanto in questo modo. Quando a volte lei vorrebbe anche mettersi in un angolo e piangere, mettersi in un angolo e essere stanca, non può farlo perché sente il peso di questo su tutta la città di incanto. Il percorso degli eroi di questa pellicola è anche il fatto che non sempre bisogna identificarsi con il proprio talento. Si deve anche essere semplicemente se stessi per essere felici, a prescindere dall'utilità che si porta alla comunità, che per carità è un valore inestimabile, ma non si deve ridurre a questo la nostra esistenza, altrimenti avviene proprio questo fattore di sentire troppa pressione e crollare. La matriarca rappresenta proprio quel tipo di generazione che ha a cuore la sua famiglia, ma col tempo, col passare degli anni, ha perso un attimino il punto di vista focale della situazione. È iniziato a tenere di più alla forma che non alla sostanza, laddove la forma è la magia che rappresenta la famiglia Madrigal agli occhi della comunità di incanto, quando invece la sostanza a cui avrebbe dovuto badare sarebbe stata la felicità dei propri singoli figli, dei propri singoli nipoti. Per esempio si stava quasi per combinare un matrimonio che in realtà non era voluto. Una casa che apparentemente è magica e felice, ma in realtà va in pezzi, è quello che può rappresentare una famiglia che ha la facciata, è perfetta, ma dietro nasconde delle cose orrende, come appunto combinare un matrimonio per far andare avanti, che cazzo ne so, la stirpe, le due famiglie, cose che non sono nel 2021 così lontane dalla realtà in certe parti del mondo e in certe parti d'Italia. Ovviamente Mirabelle invece rappresenta quello che si è nonostante il proprio talento. Si riesce a capire che a volte si riesce a essere una persona proprio perché si è il legame tra queste altre persone. Mirabelle rappresenta l'io sono non perché lavoro, ma l'io sono semplicemente perché ci sono, perché esisto, il mio essere contribuisce con il mio essere alla comunità e infatti è Mirabelle che alla fine salva la situazione con il suo non talento e per poi diventare lei stessa la nuova matriarca. Se ci pensate, la stessa Madrigalla non aveva un talento, aveva questa candela magica e ha dato i talenti agli altri, ma lei non ne ha mostrato uno. Così come Mirabelle alla fine della pellicola, Mirabelle diventa lei stessa la nuova candela nel momento in cui abbraccia sua nonna, diventa sia la nuova candela dei talenti e sia la nuova matriarca per le future generazioni. Ho parlato della sostanza, del messaggio che mi ha dato questo film, ma parliamo anche un po' di forma. Ragazzi, la computer grafica è migliorata tantissimo, è spettacolare. Pensare che si era partiti con un film nel 95 in cui si avevano, si erano, i protagonisti erano dei giocattoli e gli esseri umani si vedevano pochissimo per non far vedere quanto erano brutti. Adesso abbiamo visto dei primi piani spettacolari. Quando Luisa è inquadrata di schiena, in controluce si vedono i peletti sul collo. Quando Mirabelle si coccola con il suo cuginetto, quello che apprenderà il talento di parlare con gli animali, si vede la polvere nel riflesso del sole. È tutto spettacolare. Su tutti, anche perché è la protagonista, il vestito, gli abiti di Mirabelle e anche della sua famiglia sono spettacolari. Si riesce a capire persino la stoffa, il tessuto con cui li hanno fabbricati, passatemi il termine, anche se non sono reali. Un'ultima chicca che ho notato è che all'inizio, quando c'è la foto di famiglia che però esclude in un certo senso Mirabelle, non volontariamente, però siccome lei non ha un talento non si ricordano nemmeno che manca nella foto, non si ricordano nemmeno di chiamarla per entrare nella foto di famiglia. Questa foto è perfetta, tutti nella loro posizione, tutti che esprimono il loro talento mentre scattano la foto. Mentre nella foto finale, dove Mirabelle è al centro per quanto è importante per la sua famiglia, a un certo punto il ragazzino che comanda gli animali, che parla con gli animali, è a cavallo di una tigra e di un giaguaro, il giaguaro chiaramente corre davanti alla fotocamera e la foto viene sfocata ed è bello vedere come alla fine la foto di famiglia non sia perfetta, è imperfetta ma proprio perché è imperfetta che è realistica, è reale, è genuina, mentre quella super figa che c'è all'inizio in realtà era posticcia, nascondeva dietro qualcosa di oscuro, di non reale, di fittizio che andava riparato come è stato riparato alla fine. Bene ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.